Ehm, ho trovato solo dei splash, che gliela, mamma mia, che schifezza Vabbè, accontentiamoci di poco Cosa vende questo negozio? Molto bene Miglia al pompa, grazie, tenente Si fai da? Tiparti, baby Mua L'arma esotica, fa schifo Il P90 fa veramente vomitare, non è il P90 di una volta Aspetta, giù Arrivano a teripartare Troppo forte, ragazzi Ok, siamo quattro persone Ma? Ma? L'hai sentita, frate? Mamma mia, se l'ha sentita questa Pulita, raga Ma? 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 no 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 Sì. Meno male che me ne sono andata, sennò con sto glo-goglone non sentivo nulla. Mannaggia terdevilone. Cioè, ma ha rotto proprio tutto con quelle robe là. Mi ha fatto male cane con quel robo distruggitutto. Ah, micchia, ma non faccio nulla di mattone, raga, ma che è sta roba? Eh, lo so che red è esotico. Infatti, dico, non mi aspettavo fosse così efficiente più che altro nelle strutture, capito? Giustamente arriva subito un altro. Oddio! Oddio! Abbiamo i refresh, signori! Non ci credo. Oddio! Oddio! No, vabbè, raga, sono un giustante di mostro. Ero morto, raga, io ho fatto un max che, cristo Dio, gli ho formatato le gingive. Arrivederci, amore mio! No, vabbè, sono un giustante di mostro. Vabbè, sono un giustante di mostro. Vabbè, sono un giustante di mostro. Sono troppo forte! Oh, stai! Cristo Dio! Che stai di che mi ho fatto? Che stai di che mi ho fatto, raga! Mio Dio Mio Dio Un game così bene non lo facevo da un sacco di tempo C'è proprio così intenso senza Mazz Senza nulla Mamma mia rega non avevo più nulla Avevo finito Mazz Mamma mia rega che bella partita Che bella partita Astaga di trapalebbe